Con l'assenzione del Presidente della Lega B, Mauro Balata, il Consiglio federale ha dato il via libera al Trust presentato dalla Serentana nella giornata del 3 luglio scorso. La Società Granata potrà dunque partecipare al campionato di Serie A che prenderà il via il 22 di agosto, calendario il 14 luglio. Due mesi circa è durata l'attesa di Salerno dal 10 maggio, giorno della promozione, ad oggi 7 luglio la Chiesa Romana festeggia proprio oggi San Claudio per poter finalmente avere la certezza dell'iscrizione alla massima serie della sua squadra. Dopo il via libera della Covisoc in merito alla comprovata indipendenza economica del Trust, il Consiglio federale ha dato il suo placet all'iscrizione della Serentana. Ora potrebbe partire il ricorso del Benevento, intanto Salerno e la Serentana incassano il consenso di gravine di tutto il Consiglio federale. Ora però bisognerà effettivamente lavorare alla cessione della Serentana per accorciare il più possibile la durata del Trust che, va ricordato, non rappresenta la soluzione ma solo un modo per traghettare la Serentana da una proprietà ad un'altra garantendo nell'emore la partecipazione alla Serie A che era stata conquistata sul campo a maggio. Solo con la cessione ci sarà la soluzione del problema, quella forse arriverà appunto con la vendita del club. Tra domani e dopodomani via le visite mediche, Castori sarà in città domenica dal 15 luglio, ritiro a Cascia.